Benvenuto a Roberto Canto l'Acqua Ripani, della pasticceria Mimosa Tolentino. Ci parli un po' dei prodotti che ha portato per questa edizione di Repanettone. Allora, i prodotti che abbiamo portato per Repanettone è innanzitutto il panettone classico milanese, poi abbiamo portato il classico mandorlato, cioccolato, cioccolato arancio, noci pecan e cioccolato al caramello, un dolce tipico delle Marche, un po' rivisitato, che è il panfrutto martigiano, fatto a base di un impasto simile a quello del panettone ma arricchito con fichi, noci, uguetta, pinoli, mandorle e gocce di cioccolato. Abbiamo portato il pandoro e il panettone marron grassin. Il mercato del panettone ha risentito della crisi economica? No, secondo me il mercato del panettone non ha risentito della crisi economica e in questi ultimi periodi è incrementato soprattutto col panettone artigianale. Bene, io la ringrazio e le auguro buona fortuna per l'edizione. Grazie. 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 Grazie.